Ciao amici, questo è un messaggio di solidarietà e un abbraccio per il Teatro Lotto di Ferrazzano, Campobasso, Molise, un teatro importante, bello, un teatro che ha fatto tanti anni di programmazione e che adesso rischia di chiudere. Sono stato lì a recitare un sacco di volte, a cantare e voglio esprimere con questo video la mia solidarietà e la vicinanza agli amici del teatro e spero di tornare presto. Molise Pride, Molise nel cuore, Ferrazzano, Teatro Lotto, lunga vita al Teatro Lotto. Ciao!